Una serata da non perdere, quella del 20 agosto, un martedì a Forte dei Marmi con il concerto della Roxy Bar Band. Vi ospitiamo di nuovo qui nei nostri studi per presentare proprio questa serata. Sì, siamo letti di tornare nei vostri studi dove anche l'anno scorso abbiamo lanciato la serata in questione. Quest'anno l'unica data in Versilla che facciamo sarà, nell'ambito della saga gastronomica della Contrada Il Ponte a Forte dei Marmi, martedì 20 agosto con ingresso libero e anche quest'anno avremo la possibilità di ospitare i due grandi chitarristi più importanti della storia di Vasco Rossi. Maurizio Solieri che è anche coautore di alcuni pezzi importanti della discografia di Vasco ed Andrea Braido. Sarà una serata importante e quindi chiamiamo a raccolta tutti i nostri fan che sono sempre più numerosi durante i nostri concerti. Ecco, l'ho anticipato, ci saranno ospiti appunto i due chitarristi di Vasco Rossi. Quale sarà un po' anche la scaletta e il programma della serata? Ma diciamo che andremo a toccare un po' l'epoca d'oro della produzione di Vasco Rossi, ovvero quella che sta a cavallo fra i due dischi fronte del palco e gli spari sopra, che sono poi i due dischi insieme a Liberi Liberi, che è il disco prima di fronte del palco, sono quelli che poi diciamo hanno sfornato i successi, quelli che sentite sempre, anche nelle scalette diciamo dei concerti diciamo che ha fatto Vasco Rossi quest'anno. Ecco, per un chitarrista che significato ha proprio poter suonare insieme a questi artisti? Ma sai, ti racconto un aneddoto che è corto, ma fa capire bene l'intensità della cosa. Quando io ho iniziato a suonare la chitarra, era proprio il 93-94, 93, e io comprai una rivista al tempo, perché al tempo si ragionava ancora sul cartaceo, e il paginone centrale della rivista era una foto di Maurizio Solieri con una chitarra a doppio manico che usava nel tour di Gli Spari Sopra con Vasco. Quindi per me Andrea Braido e Maurizio Solieri sono un po' due, come dire, padri putativi del chitarrismo elettrico in Italia. E poi sono anche degli amici in verità, quindi per me è un'emozione da una parte e anche il bello di stare sul palco con degli amici dall'altra. L'abbiamo detto, l'ingresso è libero e gratuito, facciamo quindi un invito a partecipare? Ma sì, facciamo un invito perché merita veramente, oltretutto, è una sagra molto conosciuta nell'ambito della Versilie, non solo, dove si mangia squisitamente bene. e a compendio della cena c'è un concerto da non perdere perché Maurizio Solieri ed Andrea Braido sono la storia di Vasco Rossi, sono quelli che hanno scritto pezzi che noi suoniamo, noi nei nostri concerti non facciamo mai mancare i pezzi storici della storia più importante di Vasco e questa è l'occasione giusta.